5 Stelle allora non parlano più agli arrabbiati anche perché stanno a governo e sugli arrabbiati ormai ha molta più presa Salvini, come c'è anche la Meloni che è un'altra che cresce. Poi è vero che loro sono posti ideologici, quindi sai dirgli che hanno tradito è un errore perché io mi ricordo di Maio dire mille volte in ogni contesto prima del voto del 2018 noi se non prendiamo il 40% parliamo con chiunque tranne che con Berlusconi e lo hanno fatto. Al tempo stesso però se tu fino al giorno prima stai con la Lega e fai anche la parte dello Zerbino perché si sono fatti prendere in giro dall'inizio alla fine e lo vorrei ricordare a quei fenomeni parlamentari che rimpiangono la Lega, forse non si ricordano quanto venivano turlupinati dalla mattina alla sera. Il giorno dopo vai con il Partito Democratico, non sei credibile. Siamo sempre lì, allo stato attuale se uno dovesse fare una foto del Movimento 5 Stelle la foto verrebbe sfocata, verrebbe mossa perché non si capisce minimamente cosa...